Maurito, grande partita, grande vittoria con la campione d'Europa, una Lazio da grande squadra. Sì, come hai detto te, una grande squadra. Abbiamo giocato molto di squadra, abbiamo difeso, abbiamo aspettato all'Inter e credo che sia stata la chiave della vittoria della Lazio. Ho visto due età spesso con Hernanes, quella bella pennellata, il tuo grande gol. Stai tornando con il Mauro Zara del primo anno, quello che aveva entusiasmato la gente? Sì, non lo so se si sta tornando, credo che sempre sono stato lo stesso. Devo stare più tranquillo e giocare come oggi un po' più per la squadra. Mauro, la Lazio continua a stare lì davanti, adesso è pari al Milan, dove può arrivare questa squadra? Questa domanda te la fanno tutti. Non lo sappiamo, come ho detto prima, dobbiamo continuare così a giocare e a pensare non arrivare lì su, però prima i sei, dopo vediamo dove siamo.